Bene, adesso nell'ultima lezione di questo modulo ti andiamo a spiegare quindi la vuelta a sinistra, quindi abbiamo visto precedentemente la vuelta a destra, adesso andiamo a fare la vuelta a sinistra o vuelta contraria, ok? Quindi andiamo a fare un giro dal lato opposto, gamba a sinistra, andiamo in avanti e facciamo 1, 2, 3, ci giriamo di un quarto a sinistra, vi facciamo quindi 5, 6, 7, 1, 2, 3, dopodiché col destro finiamo la rotazione andando laterale col destro, 5, 6, 7, ritorniamo qui. Ripetiamo tutto, 5, 6, 7, 1, 2, 3, col destro adesso vado indietro, 5, 6, 7, ancora 5, 6, 7, 1, 2, 3, continuo 6, 7, base 1, 2, 3, ripetiamo 5, 6, 7, volta a sinistra, 1, 2, 3, 5, 6, 7, quindi come hai visto un po' adesso nel passo abbiamo fatto una base in avanti senza spostare il destro e al lato, un giro col destro lasciando il sinistro perno, 6, 7, ok? Vedetelo in questa direzione, da qui è come se noi andassimo a fare un pendolo, quindi avanti e torno indietro, 1, 2, 3, continuo, 5, poggio il peso, 6, 7. Ok, quindi ripetiamo ancora, base, 5, 6, scusatemi, prendiamo direttamente dalla volta a sinistra, 5, 6, 7, via, 1, 2, 3, giro, 5, 6, base, normale, 1, 2, 3, volta a sinistra, 6, più veloce, e 1, 2, 3, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, ripetiamo di nuovo, 6, via, e 1, 2, 3, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, ultima volta, via, e 1, 2, 3, destro, 6, 7, e 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok? Mi raccomando, rividilo senza musica, prima, e se ci sono dei dubbi, rividilo più lentamente, perché puoi rallentare andando nella rotellina in basso, puoi rallentare alla velocità, se sei troppo veloce, puoi sempre rallentarlo. Ok, se hai difficoltà, hai bisogno di farci delle domande o mandarci dei video, puoi sempre farlo, noi siamo qui proprio per aiutarti. Quindi, ci vediamo nella sessione guidata. Ciao!